Scoprire Napoli e le sue bellezze da una prospettiva diversa a bordo dei nuovi trasportatori personali a due ruote segue Ninebot e il nuovo servizio di mobilità intelligente offerto dalla NTN-SRL che prende il via per consentire a cittadini e turisti di visitare la città in modo pratico e sostenibile. I nuovi Ninebot nella versione Elite più leggera e maneggevole sono alimentati elettricamente e possono circolare guidati da chiunque abbia compiuto i 16 anni nelle aree pedonali sui marciapiedi e sulle piste ciclabili. Dal lungomare dove è presente il punto di raccolta è possibile raggiungere attraverso un tour della durata di tre ore i più bei luoghi e monumenti cittadini, la basilica di Santa Chiara, via Chiaia, via Toledo, piazza Trieste e Trento, il maschio Angioino, piazza del Plebiscito e Borgo Marinari. In questo periodo in cui siamo molto soddisfatti per l'andamento dei flussi turistici della città, uno dei nostri problemi è trovare sempre migliori servizi e modi sempre più intelligenti per fruire delle bellezze della città. Mi sembra che questa iniziativa vada perfettamente in questa direzione, molto divertente, stimolante, sostenibile dal punto di vista ecologico. All'inizio di ogni tour, personale specializzato aiuterà i clienti a prendere familiarità con il personal transporter ed un'audioguida illustrerà il percorso, la storia e i monumenti visitati. L'intenzione è proprio quella di offrire la possibilità di vedere tutta la città in poche ore, nel senso che con un tour di tre ore noi li portiamo a vedere la gran parte delle attrazioni turistiche di Napoli, senza stancarsi, senza soffrire il caldo, avendo una guida, un accompagnatore turistico che li accompagnano e un'audioguida che fornisce tutte le informazioni relative ai vari siti di interesse e alle tradizioni della nostra città.